Da sempre il Movimento 5 Stelle preme per il cambio della mobilità, per passare a una mobilità più sostenibile. Ovviamente in primis questo significa molti più mezzi pubblici ed efficienti. E naturalmente significa anche lo spostamento dai veicoli a benzina, a gasolio, ai veicoli elettrici. I veicoli elettrici hanno una serie di vantaggi. Ora per esempio 100 km fatti con veicolo elettrico costano come combustibile, cioè come elettricità, 4 euro. Quindi è già un prezzo molto competitivo che scenderà ancora perché aumenterà l'efficienza dei motori elettrici. Ma una cosa che pochi italiani sanno è che già adesso in altri paesi con tecnologia italiana il proprietario dell'automobile elettrica viene remunerato dalle compagnie elettriche Perché l'auto elettrica essendo una batteria disponibile non solo a prendere energia dalla rete ma anche a donare energia alla rete Ecco questa operazione di salvaguardia, di aiuto alla rete è un'operazione che ha un valore economico Per esempio in Danimarca i possessori di automobili elettrici vengono remunerati con 500 euro all'anno per questo servizio Qui in Italia il mercato è un po' diverso, questo consentirebbe comunque di avere per ciascun proprietario di automobili elettrici 300 euro di ritorno economico che gli viene dato per il semplice fatto di acconsentire che la propria automobile funga da batteria istantanea per il sistema elettrico e quindi anche di poter fornire energia nei momenti di bisogno 300 euro sono 8.000 km quindi riassumendo 8.000 km all'anno verrebbero garantiti gratis dal solo fatto di mettere l'automobile a disposizione del sistema elettrico per il tramite del fornitore Ecco questa è una notizia che dovrebbe accelerare la transizione ma in Italia non si può fare perché manca semplicemente la norma tecnica la tecnologia c'è, è italiana, viene usata in altri paesi potremmo farlo qui in Italia ripulendo l'aria dal gas di scarico di tubi di scappamento e avere 8.000 km gratuiti all'anno già con la tecnologia attuale quindi governo italiano, se ci sei, batti un colpo grazie a tutti